quando si assista cerchio firenze 77 attraverso roberto setti scuola del cerchio firenze 77 7 febbraio 1976 essere divenire mediterranea a cura di vb dalì generalmente quando si assiste a una cosiddetta seduta spiritica sia sempre la segreta speranza che qualcosa di particolare venga a ciascuno che siano soddisfatti interrogativi personali di ognuno di voi che sia possibile assistere a dei fenomeni inconsueti ma come avete udito da quanto è stato riletto questa sera il vero scopo delle nostre riunioni è quello di far spostare la vostra attenzione ad una concezione diversa della realtà nella quale vivete una concezione che la fretta del vostro tempo i vari problemi personali che vi assillano della famiglia del lavoro e via via vi fa trascurare non prendere in considerazione e noi invece quando possiamo farci udire facciamo di tutto per ricordarvi che tutto questo lavorare tutto questo affannarsi è importante nella misura in cui realizza migliori condizioni diviene una forma di aiuto per gli altri non è invece importante anzi è un inutile affannarsi allorché il vostro agire sia un'azione che si rivolge nei confronti di voi stessi quando questo affannarsi questo correre non sia in effetti che un cercare di imporvi di apparire di divenire in prestigio potere grandezza importanza e via via ciò che noi vi diciamo figli non significa che dovete cospargervi il capo di cenere e fare quello che per tanti anni è stato fatto no ma significa che voi dovete impostare diversamente il vostro concetto della vita se anche voi sentite il desiderio di agire per espandere voi stessi per ingrandire la vostra importanza ebbene fatelo ma siate consapevoli di ciò sappiate che tutto quello che fate lo fate con questo fine non celate la vera vostra intenzione dietro scopi umanitari o peggio ancora dietro un'insensibilità di coscienza senza chiedervi perché lo fate voi dovete seguire il vostro desiderio perché laddove il desiderio siete voi stessi ma quello che noi vi chiediamo è che non siate inconsapevoli di ciò che fate della vera intenzione che vi spinge ad agire domandate continuamente a voi stessi perché faccio questo null'altro può sembrare molto poco ma vi assicuro che invece è tanto purché sia fatto con costanza ogni giorno ogni giorno prendetevi l'impegno di chiedervi qual è la spinta che vi ha mosso durante la giornata vedetela in tutta la sua crudezza senza infingimenti con sincerità senza rimanere male se a questo esame apparite a voi stessi peggiori di quanto vorreste essere non ha importanza ciò che ciascuno è veramente tale rimane qualunque cosa possa dire di se stesso o gli altri possano dire di lui quindi abituatevi a essere sinceri con voi stessi guardate con sincerità l'intimo vostro e scoprirete la vostra realtà non ho altro da consigliarvi per il momento perché tante sarebbero le cose da dire a ciascuno di voi sempre con questa intenzione ma spero che ciascuno sia riuscito ad avere risposta al suo problema da queste parole rileggendole riascoltandole forse potrà penetrarle meglio potrà capire il vero senso di esse io vi assicuro che esse sono grandemente utili per il vero scopo della vostra esistenza che è quello di procedere verso un allargamento dei confini di voi stessi